La tutela alimentare e sanitaria è da sempre la stella polare dell'azione dei carabinieri del NAS. L'azione di controllo eseguita negli ultimi mesi dell'anno dai militari, intensificatasi con l'approssimarsi delle festività natalizie, ha consentito di riscontrare numerose carenze e violazioni, sia di carattere amministrativo che penale. Durante i controlli nel settore della ristorazione sono stati chiusi un noto ristorante dell'isola di Ortigia, Siracusa, e una trattoria di gelo in provincia di Caltanissetta, a causa di incenti quantitativi di alimenti in cattivo stato di conservazione, sprovvisti di etichettura conforme e pronti per finire nei piatti degli avventori. Sempre in un noto ristorante del comune nisseno, i militari hanno posto sotto sequestro amministrativo più di 50 kg di prodotti ittici e carne, pronti per la somministrazione e detenuti in cattivo stato di conservazione. Non solo ristorazione, oggetto di controlli e verifiche è stata anche la filiera dell'olio di oliva, presso un esercizio commerciale di vittoria, infatti, gli ispettori del NAS hanno sequestrato più di 100 litri di olio extravergine messo in vendita sprovvisto di elementi utili alla tracciabilità. Numerose sono state le verifiche seguite in prossimità dalle festività natalizie in genere, che hanno consentito di riscontrare nei negozi, nella maggior parte orientali, nelle province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, migliaia di prodotti sprovvisti di marcatura CE e avvertenze sui rischi in lingua italiana, pertanto potenzialmente dannosi per la pubblica salute. Sul comparto socioassistenziale si segnala, nella città di Siracusa, nel comune di Gela, in provincia di Caltanissetta e nel ragusano a Comiso, l'attività ispettiva che ha consentito di accertare gravi carenze in materia organizzativa, funzionale e assistenziale, così è stata disposta la sospensione dell'attività e il ricollocamento degli ospiti in altre strutture. Sospensione, infine, per una casa di riposo per Anziana San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, poiché operava in assenza dei titoli autorizzati previsti, carenze igienico-strutturali, ampliamento della capacità ricettiva e disfunzionalità in ordine agli standard regionali di assistenza.